E di pesa anche dalla necessità di accelerare il più possibile i tempi imposti dal PNRR all'approvazione del nuovo codice degli appalti, è necessario tuttavia evidentemente formare le professionalità impegnate nel settore dei contratti pubblici, ingegneri, architetti ma anche gli stessi avvocati, per acquisire le nuove indicazioni legislative. Ha preso le mosse da questo il convegno che si è tenuto oggi al Torre del Barone proprio sui contenuti del decreto legislativo 36 del 2023 che disciplina i contratti pubblici. Il nuovo codice fissa come criterio prioritario il principio del risultato con la massima tempestività. Per far questo poi occorre valorizzare la fiducia nelle pubbliche amministrazioni e garantire ovviamente sempre la concorrenza ma pur che sia strumentale appunto a garantire il risultato che non significa soltanto realizzare l'opera ma contribuire al rilancio dell'economia attraverso la logica keynesiana degli appalti. Convegno promosso dagli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Agrigento. Questi principi perbaderanno tutte le opere e il legislatore anche su solicitazione del lanci ha voluto dare spazio all'appalto integrato che pur eliminando la centralità del progetto consente ovviamente di andare molto più spediti nella realizzazione delle opere. I tecnici stamattina hanno evidenziato che le modifiche apportate dall'Assemblea regionale siciliana sul codice degli appalti approvato a livello nazionale e recepito dalla nostra regione vanno nella direzione di una migliore semplificazione delle procedure. È una legge quella regionale che snerisce le procedure in maniera notevole, c'è una semplificazione dei tempi per approvare i progetti e questo è molto importante perché le amministrazioni molto spesso quando devono approvare i progetti diciamo che si dilatano i tempi e noi sappiamo che il PNRR non aspetta. L'iniziativa odierna è stata dedicata alla memoria di Pippo Liveri, un grande professionista oltre che un uomo per bene scomparso negli anni scorsi. I figli, Valerio e Direna, entrambi ingegneri che portano avanti lo studio del padre hanno sottolineato il valore che per la famiglia ha avuto la decisione di dedicargli questa iniziativa. Per noi oggi è una grande emozione avere qui soprattutto un ente di formazione con cui lui ha collaborato per più di 10 anni e averli qui sicuramente per noi è veramente un grande onore, una grande soddisfazione, un modo per ricordare sempre mio padre e soprattutto quello che ha fatto durante la sua professione e durante gli anni di formazione. E' emozionante soprattutto avere anche qui con noi dei relatori di alto spessore che a parte essere dei grandi esperti in materia soprattutto in primis sono stati dei cari amici di papà e poi la cosa più bella è poi onorare la memoria di papà proprio nella sua città a Sciacca e quindi questo per noi è un altro motivo di grande soddisfazione. E' una giornata che ricorda una grande personalità di Sciacca che ha fatto tanto per questa città e anche per questa professione. E con il merito del confronto odierno perché questo nuovo codice degli appalti semplifica la situazione che riguarda il lavoro? Questo riuscirà in qualche modo a dare una spinta a tutti gli uffici, alla burocrazia in generale e quindi apprendere quelli che sono gli elementi principali di questa novità è sicuramente un interesse un po' per tutti gli operatori del settore, dai professionisti e anche dagli amministratori. Ci auguriamo che comunque il quadro normativo sia più limpido perché come sempre sappiamo che ci sono sempre delle grandi lacune e oggi abbiamo questa occasione di assistere comunque a questo convegno dove abbiamo relatori di grande fama nazionale per cui sicuramente chiariranno tutti gli aspetti importanti e le novità del nuovo codice.